Il consigliere comunale, questa mattina ci sono state diverse interrogazioni al consiglio comunale sia per quanto riguarda le segnaletiche, per quanto riguarda le strade e ci sono stati diversi interventi interessanti. Io ovviamente ho proposto delle cose che mi stanno a cuore come quelle per dare un aiuto al commercio, per evitare venditori ambulanti ai semafori, ai passaggi a livelli, sotto i portici che danneggiano l'economia cittadina dei commercianti locali. Parlando del passaggio a livello, quello che ho proposto è la sicurezza del passaggio a livello, quindi ho proposto al sindaco di farsi carico presso le ferrovie dello Stato per far mettere delle bandelle, delle griglie al di sotto delle barre del passaggio a livello per evitare che cani, bambini o deterrenti alle persone che sono abituati da anni a passare sotto le barre, per evitare questo. Ove non ci sarà risposta delle ferrovie dello Stato ho proposto al sindaco che ovviamente dietro permesso mi farò carico io personalmente di farle applicare per dare maggiore sicurezza ai cittadini di quella zona.